ciao a tutti non sono sparita non stavo bene quindi per quello non ho messo video volevo dirvi innanzitutto che in questi giorni, in questa settimana ho partecipato ad un concorso di Sara Tipica quindi andate a vederla ed è stato mi pare il terzo concorso a cui ho partecipato sui concorsi di Youtube e non mi è mai capitato di vincere invece stavolta ce l'ho fatta quindi ho vinto e sono stata contentissima perché il concorso consisteva nel mettere un commento sotto un video dedicato alla persona amata che era per San Valentino a dare una specie di commento o comunque poesia qualche cosa e quindi sono riuscita a vincere se volete andare a vedere il video perché ho visto che comunque è piaciuto molto è piaciuto molto il mio commento quindi potete tranquillamente andarlo a vedere nel suo canale e io ho vinto un sacco di cose molto belle anzitutto ho vinto una Chanel numero 5 questo qua che mi piace tantissimo e ve lo faccio vedere è la confezione da 50 ml quindi è anche abbastanza grande l'ho già provato ed è buonissimo mi piace molto tra l'altro non l'avevo mai avuto lo Chanel numero 5 questa cosa qua che si può usare come come colanina oppure come braccialetto che non ho ancora utilizzato e poi un campioncino di Chanel lo stesso che è questo colore qua proprio che mi piace tantissimo e poi questa borsettina lo stesso Chanel con dentro delle creme una crema e un campioncino di profumo quindi diciamo che mi è andata benissimo perché non mi aspettavo niente non mi aspettavo di aver vinto però mi ha contattato mi ha detto che avevo vinto sono rimasta proprio contentissima quindi la saluto tanto un bacione allora invece volevo parlare del tutorial di oggi che è ispirato alla primavera volevo farvelo vedere perché noto che non si vede tantissimo ed è questo qua quindi ho usato colori tra verde qua sotto ho usato il verde poi viola rosa e rosa più scuro è un trucco molto semplice non l'ho voluto fare troppo carico perché voglio che sia un buon trucco da tutti i giorni un trucco che si può mettere benissimo qualsiasi giorno non troppo carico appunto anche per per la mattina soprattutto allora inizio subito con una base bianca vi la metto tutta la palpebra la spargo bene e poi prendo il mio pennellino questo qui questo pennellino qui prendo e poi prendo un color lilla molto chiaro molto chiaro prendo il mio collirio e bagno il colore bagno il pennellino e lo metto in tutta la palpebra è un colore abbastanza chiaro che a me piace troppo ecco fatto poi prendo l'altro mio pennellino questo qui e prendo questo colore di rosa quindi rosa più acceso più vicino al fucsia e lo metto qua poi prendo l'altro mio pennellino questo e inizio a sfumarlo bene perché lo voglio mettere solo sopra quindi voglio che il colore si vede il distacco tra il lilla e il fucsia poi sopra questo fucsia ci metto questo colore qui della mia paletta che quindi è un colore più chiaro quindi rosa più chiara con l'altro mio pennellino questo qua lo prendo e lo metto sopra così e poi prendo con un altro pennellino questo colore qui che è un rosa chiaro 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 e lo metto qua sopra così posso vedere meglio ecco qua poi riprendo il lilla per farlo vedere bene ecco fatto e poi prendo una matita eyeliner la mia matita eyeliner viola faccio la virgoletta alla fine come dall'altra parte ecco fatto e poi con il mio pennellino d'eyeliner prendo il colore verde il mio della Kiko che è il numero 07 metto un po' di collirio e poi metto qua sotto prendo la matita bianca e la metto dentro e per finire il mascara ecco fatto ah il trucco primaverile è finito spero che vi sia piaciuto vi faccio una foto così lo vedete meglio ecco my gloss ho utilizzato questo colore qua quindi è un colore tipo fucsia lo stesso spero vi sia piaciuto alla prossima ciao ciao